Sui due temi più importanti, ogni tanto qualcuno mi dice siete puliti uguali, fate una battaglia insieme, non posso, vorrei ma non posso, perché sui due temi più importanti, via dall'euro, subito, senza se e senza ma, e stoppa l'immigrazione clandestina, Grillo piglia per il culo gli italiani, la tira in lungo, difende l'euro, cancella il reato di migrazione clandestina, o cambi idea e ne riparliamo, oppure andiamo avanti da soli, meglio soli che male accompagnati.